Non siamo un fattito, non siamo una casta, siamo cittadini di tutto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Sì, grazie Presidentessa. Ecco, questa mozione nasce dal fatto che siamo venuti a conoscenza che appunto proprio nel 2011 il Comune di Monza aveva chiesto alla provincia l'ampliamento del contingente, adesso l'attuale contingente di taxi a Monza è di 21 taxi, come ne avevamo parlato anche durante l'interrogazione che aveva fatto all'assessore, diciamo che c'è una proporzione molto bassa rispetto agli abitanti, di taxi per abitante, rispetto anche ad altre città della Lombardia, ovviamente poi ogni città va valutata per le sue caratteristiche. C'è da dire che il precedente bando per il rilascio di licenze risale a più di 15 anni fa, il Comune all'epoca aveva motivato la richiesta dicendo proprio che in relazione all'attuale numero di auto pubblica da piazza del tutto insufficiente in rapporto all'incremento della mobilità locale determinata dai cambiamenti intervenuti sia dall'aumento della popolazione residente sia per la popolazione fluttuante che si trova sul territorio per motivi di svago, lavoro e salute. Adesso stiamo per entrare nell'era Expo quindi molto probabilmente diciamo che ci saranno molti tra turisti che verranno sia per motivi di lavoro che per motivi per visitare la Villa Reale e per altri motivi si recheranno a Monza e quindi diciamo che questo a maggior ragione fa sì che questo iter debba essere avviato il più velocemente possibile. Anzi rimane quasi da chiedersi se forse aumentare il contingente di un numero di tre taxi si sia adeguato se forse proprio andando incontro a questa come si augura grande affluenza non sia il caso di chiederne anche qualche d'una in più. Tra l'altro diciamo che rispetto a quando ne avevamo parlato in aula l'assessore mi ha detto che insomma la condizione dei taxi a Monza non probabilmente non c'era diciamo tutto questo lavoro da poter immaginare di aumentare il contingente però io ho fatto delle considerazioni intanto mi sono consultato anche con altri consiglieri anche con altri cittadini diciamo che nelle ore serali è molto difficile trovare un taxi a Monza e spesso appunto bisogna chiamarlo da Milano. Poi tra l'altro Monza è un comune che non ha diritto alla conurbazione dei taxi. La conurbazione sostanzialmente è un regolamento che diciamo ha come scopo quello di rendere più efficace e razionalizzare il servizio dei taxi nei comuni di Milano in provincia, Varese e Bergamo cioè nei comuni dove vi sono dei grandi aeroporti. Ovviamente Monza non è tra questi comuni però diciamo che sicuramente sia Linate che Malpensa che Orio al serio sono comunque tutti i aeroporti che sono molto vicini alla città con la conurbazione era possibile praticamente perché diventa efficientava perché era possibile praticamente che un tassista da Monza caricasse qualcuno all'aeroporto lo portasse a Milano e poi da Milano non era obbligato a tornare indietro vuoto ma poteva caricare una persona proprio perché rientra in questa funzionalità della conurbazione. Poi tra l'altro nel regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea il regolamento comunale che se non mi sbaglio è stato rivisto nel 2010 l'articolo 37 recita, dice che il servizio taxi deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili a Monza non vi è un mezzo attrezzato e pertanto per un diversamente abile deve rivolgersi al comune di Milano per poter avere un taxi che sia adeguato per le sue esigenze e a questo diciamo che sono i motivi per cui chiedevamo che venisse attivata la commissione consultiva che appunto come recita l'articolo 3 del regolamento per il trasporto è la commissione che deve avviare l'iter per poi poter emettere questo bando. Diciamo che secondo il nostro punto di vista ci sono tutte le condizioni per far sì che questo bando venga emesso come dicevamo prima l'era Expo, era una richiesta che era già stata fatta dal comune nel 2011 la provincia aveva aderito a questa richiesta di aumento del contingente di tre unità per cui insomma pensiamo che poi tra l'altro una nota forse minima però sono anche tre posti di lavoro in più cioè in un momento in cui il lavoro diciamo sappiamo le difficoltà che ci sono è vero che probabilmente l'assessore dice sì però ci sono già dei tassisti che probabilmente fanno fatica io non voglio entrare nel merito perché poi sinceramente non so se effettivamente ci sia questa difficoltà o meno però io vedo che negli orari in cui sei quando alla stazione diciamo alla stazione arrivano molte persone non mi sembra che ci sia questo gran numero di stassisti la sera appunto è impossibile trovarli manca un taxi infatti penso che probabilmente nel bando manca un taxi adeguato per il trasporto delle persone diversamente abili io penso che questa è anche un'altra cosa che nella nostra mozione non è specificata però io penso che l'assessore debba valutare anche nel bando che ci sia probabilmente magari una la possibilità di avere un taxi per questo tipo di trasporto ho finito grazie la ringrazio l'assessore Abba prego sì grazie allora prima di tutto una precisazione c'è un taxi dedicato al trasporto questo è quello che ha affermato e quello che è stato concesso perché ha l'apparecchiatura sufficiale l'apparecchiatura adatta questo è quello che mi è stato verificato dagli uffici e che a noi risulta la seconda cosa tutte diciamo così le osservazioni che ci arrivano che lei ha trasformato in qualche caso come mie affermazioni ma in realtà era riportavo quanto mi dicevano c'è un discorso per il quale da un certo punto di vista assisti si lamentano per alcune mancanze di opportunità o perché il loro business sta calando o quant'altro è quasi inanimamente ricevo lamentere in tutte le categorie sul fatto che il servizio nella sua complessità non pare adeguato a quelle che sono le esigenze anche in particolare sono gli albergatori sono una categoria sensibile a questo punto di vista ma non solo allora sottopone un problema il problema è che dobbiamo come si può dire rivedere le condizioni di servizio e soprattutto cominciare a controllare perché è una facoltà che ci viene data non abbiamo fatto controllare quale sia il servizio come si può dire effettivamente erogato verso i cittadini e porre rimedio ad esempio per quanto riguarda la sera o per quanto può riguardare certi orari come diceva lei della stazione e quant'altro quindi le azioni che intendiamo fare che intendiamo fare sono due da una parte ricominciare a acquisire i parametri di servizio su parametri oggettivi le sensazioni sono le sensazioni i parametri oggettivi poi ci danno anche una misura di quello e dall'altra parte immettere queste tre nuove licenze le due cose vanno fatte con un po' di precedenza se mi permette rispetto al fatto di mettere ordine rispetto al fatto di mettere a bando solo perché se metto nuove licenze in un mercato ancora o in un servizio ancora un po' perfettibile diciamo così non è che aumento di molti livelli di servizio perché tutto questo si va a perdere un po' nell'inefficienza generale quindi quello che intendiamo fare è esattamente di ripristinare adesso dovremmo essere pronti per riuscire a farlo la commissione e quindi cominciare a agire a misurare i parametri e a rilevare le azioni che possiamo fare di miglioramento e mettere a bando quindi dal mio punto di vista accolgo la sua la sua la mozione ne condivido perché fa parte delle azioni che intendiamo fare se mi concede l'unica osservazione che mi permette è sull'immediatamente fatto immediatamente siamo diciamo in tempi breve un po' come la battuta da un certo punto di vista non siamo un fattito non siamo una casta siamo cittadini punto e basta ognuno vale uno ognuno vale uno ognuno vale uno vale uno vale uno